Buongiorno a tutti, buon mercoledì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti flash, il secondo canale ufficiale di pensioni e aggiornamenti. Qui tratteremo più nello specifico alcuni temi già trattati nel primo canale. Non dimenticate di iscrivervi al canale schiacciando iscriviti dove indica ora la freccia. Bene, partiamo con il video di oggi. Una delle domande più ricorrenti dell'ultimo periodo riguarda l'incremento delle pensioni previsto per il 2025 specialmente dopo le notizie poco incoraggianti sull'aumento delle minime limitato a soli 3 euro. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero esserci nuove cifre in arrivo, segno che il governo starebbe valutando un ripensamento e le pensioni infatti potrebbero crescere ulteriormente. Il dibattito recentemente si è acceso sull'aumento delle minime limitato a soli 3 euro, una cifra che ha suscitato non poche polemiche. Di fronte a tale situazione il governo potrebbe valutare ulteriori modifiche agli importi pensionistici a partire proprio dal 2025. Ma quali potrebbero essere questi incrementi? Secondo nuove proposte emerse dopo le critiche per l'aumento di 3 euro, potrebbero esserci sviluppi significativi. Le pensioni minime rappresentano un sostegno economico per coloro che, con i soli contributi versati, riceverebbero assegni insufficienti per poter vivere dignitosamente. Questo sistema prevede integrazione e maggiorazioni per raggiungere una soglia minima di reddito. Quest'anno la minima è stata rivalutata tenendo conto dell'inflazione con un incremento straordinario del 2,7% deciso dal governo Meloni che ha portato l'importo mensile ad aumentare leggermente. Per il prossimo anno si prevede un ulteriore aumento dell'1% per adeguarsi all'inflazione accompagnata da un incremento aggiuntivo del 2,2%. Questo porterebbe a un ulteriore lieve aumento delle minime, ma non si esclude che vengano introdotte ulteriori misure per aumentare ancora gli importi. Infatti Forza Italia ha proposto di portare le minime a 600 euro per offrire maggiore sostegno ai pensionati. Tuttavia mettiamo per esempio l'aumento anche di soli 10 euro sulle pensioni minime costerebbe troppo alle casse dello Stato. Quindi anche un così piccolo aumento è pura utopia. Fateci come sempre sapere i vostri pareri e dubbi qui sotto nei commenti del video e non dimenticate di iscrivervi al nuovo canale. Grazie. 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 Grazie.